Siamo notati Gesù e Maria, lo stupendito Vangelo che la mitologia sottopone alla nostra attenzione, carissimi fratelli e sorelle, in questa terza domenica di Pasqua, è chiaramente distinguibile in due parti distinte, la prima e la seconda. Con un piccolo prego, un piccolo troppo, i discepoli di Emmaus vanno dagli Apostoli e già come aveva fatto Maria Mattane, gli dicono guarda che abbiamo visto il Signore. Tenete presente tra l'altro che a quanto ci racconta poi San Giovanni c'era già stata una prima apparizione agli Apostoli, no? Questa difficoltà nel credere nella risurrezione. Mentre ancora stavano parlando e ancora stavano un attimo organizzando, appare Gesù. Immaginateci un mano. Come erano le reazioni, attenzione, di persone che erano state con lui per tre anni, che avevano ascoltato la sua parola, che ce l'hanno mangiato e babbuto insieme, che avevano tante volte sentito dire Gesù guardate che tra poco andrò a Gerusalemme, mi ammazzeranno di morte violenta, ma dopo tre giorni non si sorgerò, quindi erano tutte quante cose che avrebbero dovuto sapere. Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Dici, qui c'è qualcosa che non va, forse siamo avanti a un boccetto. Chi è questo che ci sta davanti? Oppure forse è lo spirito di Gesù, no? Come sapete che le animi non hanno un corpo. E Gesù comincia a dice, che succede? Perché sono con dubbio nel vostro cuore? Guardatemi e comincia a dire, le mie mani e i miei piedi sono proprio io. Dopodiché si scopre le mani e i piedi ti fa vedere. Che cosa hanno visto le mani e i piedi? Le ferite della conflessione. E questo dice, ragazzi ma che succede? Ancora c'è qualche problema, dice, allora facciamo una cosa. Avete qualcosa da mangiare? Perché Gesù fa questa cosa? Perché, immaginatevi la faccia, mentre in questo piede lo vedono che masticano, che sta mangiando qualcosa. Domanda, i fantasmi secondo voi mangiano? Un'anima mangia? Un puro spirito mangia? Quello che ci amaggiavo noi? Fa il pranzo della domenica? Se uno mangia vuol dire che c'è un corpo vero, d'accordo? Quindi la risurrezione di Gesù non è semplicemente che la sua anima è ancora viva, ma che il suo corpo, veramente morto, è veramente risolto. Dopo che mangia? Non dice, accipicchia. Quindi capite, prima parte del Vangelo, io sono veramente risolto. Attenzione. Ma l'aveva detto Gesù, no? L'aveva detto lui? Non l'aveva detto soltanto Gesù. Dopo che ha mostrato la realtà della sua risurrezione, gli prende e dice, adesso facciamo una cosa. Riprendiamo la Bibbia e rileggiamo insieme tutti i passi della Sagra Scrittura che profetizzano la mia passione, la mia morte e la mia risurrezione. in modo tale che avete visto questa cosa, avete visto che era tutto quanto scritto nella Sagra Scrittura e potete andare in tutto il mondo ad annunciarlo a terra. Ok? Quindi questo è il contesto. Attenzione però. Adesso siamo degli scenari che sono attualissimi anche per noi e che poi ci portano anche a dare uno sguardo alla prima lettura e alla seconda lettura prima di confondere queste riflessioni. Numero uno. Domanda. Gli apostoli, i dodici, Gesù lo conoscevano o non lo conoscevano? Prima di questi eventi. Lo conoscevano, no? C'erano stati tre anni insieme. Ma lo conoscevano bene? No. Gesù aveva detto che sarebbe morto e che sarebbe risolto, ma questi non ci avevano creduto. Quindi, primo messaggio di città dell'Evangelista. Dopo la risurrezione c'è un passaggio di qualità, c'è un santo di qualità. La conoscenza che hanno gli apostoli di Gesù passa su un altro livello. Forse prima conoscevano un grande uomo, anche se San Pietro aveva detto, illuminato dallo Spirito Santo, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Voi capite che la santissima umanità di Gesù si presentava come una cosa simile alla nostra. Quindi, chi è Gesù? Vabbè, un grandissimo santo, certamente. Uno che ha con sé il Signore, perché va pure il miracolo, certamente. Ma è veramente Dio, Gesù? Punto interrogativo o no? Qual è la prova suprema? La realtà della sua risurrezione. Capite? Quindi, da dopo la risurrezione, gli apostoli, che Gesù era Dio, non c'hanno nessun dubbio. Nessuno. E Gesù dice, niente dubbi nel vostro cuore, datevi con un pezzo di pesce da mangiare. Perché per andare ad affrontare tutto il mondo, non si può avere nessun dubbio che tu stai portando Dio. Capite? Non so se... C'è un'omiglia bellissima di San Giovanni, che dice, scusate, no, chi non crede nella divinità, nell'origirina della Chiesa? Pensiamo agli apostoli, come reagiscono prima della passione. Come reagiscono prima della passione? Giuda tradisce, Pietro rinnega, tutti gli altri scappano. Hanno fatto una bella figura durante la passione di Gesù? No. E perché hanno reagito così? Questo lo capivano dal mangiato di oggi. Perché sì, credevano che Gesù fosse un gran uomo, fosse una grande razione, però quando arrivano i guai, non ce la fanno, capite? Voi sapete come sono morti i martiri? Qui in questa bella cappella, che adesso le possiamo tutte quante riammirare, abbiamo il martirio di San Bartolomeo. Passateci dopo a darci un'occhiata, perché questo dobbiamo conoscerlo, eh? Sapete come è morto San Bartolomeo? Era uno di quelli che era scappato la sera del Giovedì Santo, dopo la cattura di Gesù. Sapete come è morto San Bartolomeo? E' morto scogliato vivo. Hanno preso un coltellaccio e gli hanno proprio l'hanno scogliato. Gli hanno tolto tutta quanta la pelle da carne e l'hanno lasciata morire in questo modo. Com'è? Non è scappato più. Che è successo? È successo che quando è stato martirizzato, lo sapeva bene, che stava morendo per Dio, e che Dio gli avrebbe dato la forza di sostenere anche il tormento del Giovedì, eh? Qualche altro apporto l'è stato? Simone, per esempio, segato vivo. Croc, 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 croc. San Pietro è stato crucifisso a testa sotto, quello che aveva innegato Gesù. Sant'Andrea è stato crucifisso sulla croce greca. Perché ce ne state tutti i colori. Capite? Se uno legge, guardate, ogni tanto che passiamo davanti alla cappella, invece abbiamo una cappellina che un giorno o l'altro può fare una bella visita dettagliata con tutte quante le lego e le martiri. Se voi leggete il martirologio, ma guardate che è una cosa impressionante quello che hanno vissuto i nostri barri della fede. Io ogni mattina che lo leggo, qualche mattina mi sento male. Capite? Lì abbiamo, dietro alla cappella della Madonna della Dolorata, che sta un po' nascosto, c'era Madonna con Santa Lucia, non mi ricordo di a dove sta vicino. Comunque, c'è Santa Lucia. Come si riconosce che è Santa Lucia? Perché in basso al quadro, o scusate, non mi voglio guardare questo lato la domenica, ma c'è una mammella che si trova per terra con vicino un paio di tenaglie. Sapete che li hanno vanno a Santa Lucia? Gli hanno preso, scusate, le mammelle femminili con delle tenaglie, le hanno strappate così. Capite? Questa, nella storia dei martiri, è ordinare amministrazione. Quando uno legge queste cose, dici, ma come hanno fatto questi, a far dire questi commenti? Perché questi ci credevano che Gesù Cristo è Dio. Mica mi scherzo. Ora, domanda, noi ci crediamo veramente che Gesù Cristo è Dio? Non lo dobbiamo dare per scontato. San Giovanni, nella seconda lettura, ci dice, attenzione, chi dice o lo conosco, non osserva i suoi comandamenti, è un giatto. Quindi, i comandamenti, a volte del Signore, ci chiedono qualche piccolo sacrificio, sì o no. Pur andando a messa la domenica, ci chiede un piccolo sacrificio, cioè, c'è un'ora della mia settimana, che non è una mia disponibilità, glielo offro al Signore. Eh, ma io lo so, ma io devo cucinare, ma io devo andare a fare una vacanza, dove andando a messa la domenica, dove andando a distriare, distriare la salle. Ma se tu credessi veramente che Gesù è Dio, e ti dice, figlio mio, un'ora a settimana, dà, te lo dico per bene a tu, non è che mi fai favore a me, ma te la dai subito, no? Se credi veramente che chi parla è Dio, anche quando ci stanno delle cose un po' più impegnative, se tu credi veramente che quello è Dio, ma lo fai? Allora, la seconda parte del Pangello, cosa fa il gesto? Dice, adesso ve l'ho fatto vedere, e questo vale per tutti, dice, ma io non ho mai visto Gesù risolto, come faccio? Conoscete che è Dio? Ecco, cosa gli ha fatto fare Gesù? Gli prende la Bibbia e gli spiega, piano piano, tutto quanto, che nella Bibbia parla tutti i posti dove si parla di lui, e attenzione, qui ci rimanda alla prima lettura, quando San Pietro annunzia, fai i primi annunci del Vangelo, dice queste cose, attenzione, che ce l'importa a noi? no, non ci comporta come? Ci guardate, voi, e parla ai contemporanei ebrei, voi, qualche tempo fa, avete chiesto che fosse graziato un assassino, e avete mandato a morte l'autore della vita, ma voi pensate che questi ebrei erano tutti carogli, cattivi, o cose di questo genere? non tutti, San Pietro dice, io so che voi avete agito per ignoranza, cioè tra quelli che hanno condannato Gesù, alcuni erano in mala fede, ci dicono i Vangeli, cioè le autorità religiose che invidiano Gesù, ma vuoi dire che nel popolo erano stati subbillagli e che dicevano Barabba, 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 non sapevano chi fosse Gesù, non gli passavamo anche per l'anticamera di cervello, San Pietro dice, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, quindi avete, cioè, però per ignoranza la rifatta grossa quanto una casa, cioè avete chiesto che fosse graziato un assassino e avete mandato a morte su attenzione, cosa significa questo? Cosa dice questo a noi oggi? Significa che se tu non conosci bene Gesù e noi non possiamo dare il risultato di conoscerlo bene, nemmeno se siamo cattolici, se andiamo a Messina la domenica e tutte le altre cose, che succede? Succede che in tante circostanze della vita anche senza rendertene conto, fai fintare di non conoscere Gesù o addirittura lo consegni in mano ai suoi nemici e ti schiedi dalla parte dei nemici del Signore. Questo può accadere tranquillamente. Ecco perché la cosa più importante a cui noi dobbiamo fare attenzione è la nostra conoscenza di Gesù. Ora Gesù li prende e gli spiega tutta la scrittura. Vi faccio una domanda. Chi di voi conosce bene la Bibbia? Ha letto tutta la Bibbia dall'inizio alla fine? Ma anche se uno avesse letto tutta la Bibbia dall'inizio alla fine, voi sapete che la Bibbia non è un mare facilmente navigabile, sono 2940 pagine di non semplice interpretazione perché sulla Bibbia e allora se io voglio conoscere Gesù come faccio? Se mi hai chiesto come faccio a conoscere un po' meglio Gesù? C'è la Santa Madre Chiesa che viene a nostro aiuto. Perché la Chiesa ha da diversi secoli formulato dei catechismi per gli adulti e per i bambini? Perché? Perché ci sintetizza in un linguaggio più semplice, ordinato e accessibile le conoscenze che sono necessarie che dobbiamo avere per Gesù? Domanda noi possiamo dire di conoscere bene Gesù? C'è questo che l'ha accorso se una persona che viene da te e ti dice guarda tu mi hai messa la domenica beh mi puoi spiegare in 5 minuti 10 minuti in 4 ore in cosa credi? Perché mi hai messa la domenica? Io non ci credo che Gesù Cristo sia il figlio di Dio in base a cosa non credi una cosa di questo? Siamo capaci di fare questo? Siamo e anche quando magari noi sentiamo magari sentiamo il Papa dice una cosa ci viene all'orecchio una questione no? una questione morale magari impegnativa no ma io questo non io non la faccio questa cosa per me non c'è niente di male sei sicuro che sia la risposta corretta? Forse non dipende dal fatto che non conosci bene qualcosa chi dice lo conosce non osserva i suoi comandamenti dice San Giovanni è un bugiato perché se lo conosci i tuoi comandamenti li osservi diceva il ragazzo del catechismo anche nella vecchia parrocchia tutti e 10 dal numero 1 al numero 10 non una aslava ma questo mi piace questo non mi piace questo sono d'accordo e questo non sono d'accordo questo non è fede capito? allora la cosa più importante vi ricordate il vecchio catechismo l'esampio 10 troppo frettolosamente messo in soffitta a un certo punto faceva questa domanda perché ci ha creati Dio? Dio ci ha creati per conoscerlo amarlo e servirlo in questa vita forse qualche persona anziana se lo ricorda per godirlo nell'altro qual è la prima cosa? la prima cosa è conoscerlo perché se tu Gesù non lo conosci non lo puoi amare e se tu non lo conosci non lo ami non lo servirai volentieri servire il Signore non è un penso è un onore è un piacere per chi lo conosce perché sai dove fare il bene per te e per tutti i pericoli che ti stanno intorno quindi la cosa fondamentale è la conoscenza con questo voglio un'occasione per invitare tutta la comunità al catechismo dei caduti che c'è la prossima settimana io per esempio fino a quando starò qui io questo l'ho sempre fatto e sempre lo farò faccio catechismo ai ragazzi ai bambini l'ultimo anno di cresimo ai giovani nel gruppo che ci sta e ai adulti perché tutti hanno il sacro santo diritto chi lo desidera di conoscere meglio il Signore così come cerco di riuscire di preparare delle domenie dei centri per cui chi si ferma all'omenia domenicale possa crescere nella conoscenza del Signore ecco perché la Chiesa manda i parroci e voi sapete che il primo dovere di un parroco il primo sapete qual è che è il dovere di un parroco subito dopo la preghiera per la sua comunità che è il primo in assoluto è predicare il Vangelo è curare l'istruzione dei figli capite perché se noi non lo conosciamo Gesù non c'è niente ringraziamo il Signore se ci andiamo qualche forma di devozione se diciamo qualche preghiera se andiamo qualche volta a messa ma c'è una fede di tutta proprio al vicino come crescerà come diventerà forte questa fede tanto quanto tu lo conosci sempre più e sempre meglio quindi se vuoi fare un'esperienza del Signore risorto ci dice il Vangelo di oggi cerca di fare una buona decisione della tua esistenza e di dare tempo e spazio al Signore perché tu lo possa conoscere meglio perché se lo conosci meglio crederai più facilmente che Dio lo amerai molto di più e la tua vita sarà un incanto perché è trascorsa nel suo servizio servire il Signore non è ripeto il Papa si chiama servo dei serviti di Dio è il titolo o nonifico più grande che possa esistere in assoluto perché servire il Signore è regnare ed è essere felice già in questo punto chiediamo a Maria Santissima il tanto desidera questo che suo figlio sia conosciuto e amato che possiamo sempre più e sempre meglio impegnarci nel crescere nella conoscenza del Signore approfittando anche delle occasioni che la grazia e la coavvivenza ci mette dinanzi e non sciupando con le grazie che il Signore ci manda perché possiamo crescere appunto nell'amore e nella conoscenza di noi siamo dati Gesù e Maria e la grazia e la grazia e la grazia Grazie a tutti